Il premio Faro 2017 organizzato dall'associazione folclorica Miromagnum della città di Mormanno è stato conferito a NTT Data, eccellenza del Digital Cyber Security e System Integration che a partire da Tokyo ha oggi a Cosenza la sua terza sede mondiale dopo quella di Palo Alto. A ritirare il premio Emilio Graziano, vicepresidente di NTT Data Italia che ha dichiarato di entrare a far parte della grande squadra della fondazione con il cuore per la ricerca e la solidarietà. Siamo contenti per essere stati scelti per questa premiazione. Ovviamente diciamo più che il premio in sé a noi fa piacere parlare sempre di ciò che noi abbiamo fatto dell'esperienza che abbiamo vissuto in questi anni e che ci ha permesso di raggiungere dei risultati importanti in particolar modo per il nostro territorio. Siamo riusciti anche questa sera a promuovere quello che stiamo facendo da più di un anno con la fondazione con il cuore che si batte per migliorare la qualità della vita dei malati di tumore della nostra regione e ci auguriamo anche di poter dare un contributo alla ricerca a livello nazionale. Grande emozione, siamo arrivati a questa serata con molta fatica però stasera ci godiamo un po' tutto lo spettacolo come dice lei diamo l'apertura all'estate internazionale del folklore che domani inizia a Castroviglia di una bella anteprima qui a Bormallo e ci divertiamo. Poi c'è la consegna di questo premio faro dove ci prepariamo a un decennale per l'anno prossimo fantastico.